salve a tutti madame e misteri benvenuti a una nuova puntata qui sul mio canale spero stiate bene e sia tutto a posto come vedete dal titolo acquisti italiani che ho effettuato in italia da alla fine di maggio tra il 24 e il 28 maggio sono state in italia e vi faccio vedere che ha acquistato avendo provato alcuno di questi prodotti vi faccio anche un piccolo commento partiamo con sefora sefora a dire la verità non ero particolarmente ispirata però vi faccio vedere ciò che acquistato allora acquistato partiamo già subito col pezzo forte è il mio primo prodotto di mark jacobs in questo caso è uno smalto e il petra ed è quello che sto indossando l'ho uso l'ho usato senza top coat e che metterò successivamente il seige fit ma almeno vedete il colore questo è con la luce artificiale comunque da descrivere è un prugna non è un plum è un viola scuro di base con dei riflessi dei glitter più che altro oro e argento questa è la confezione molto molto carina l'effetto finale di un e di un top alla fine sulle unghie come vedete è leggermente più più scuro perché da qui dalla confezione sembra un po il grey wood dei dei water and shadow di kiko però in questo caso sulle unghie lo vedete è leggermente più chiaro è molto luminoso è la seconda volta che l'ho utilizzato e ha una durata regolare ciò non giustifica i 19 euro e 50 di prodotto tutti i prodotti belli scrivo qua sotto con relativi prezzi comunque 19 50 poi spinta dalla novità di mascara ho acquistato questi due prodotti che già vi ho fatto vedere nei miei video allora queste sono li vedrete anche nei most played perché li sto provando e li sto testando e abbiamo l'ortrages curl mascara di sicura che ha il costo di 18 euro e 50 quindi 18 e 90 quindi non è neanche economico il signorino questo è lo scovolino che vedete in plastica e ai dentini piccolissimi allora cosa ne penso di questo mascara perché calcolate che un mascara ancora fresco quindi il le mille la mia opinione su mascara comunque ha bisogno di un po di tempo però posso dire che a e dopo di fare il confronto perché qui su questo l'occhio sinistro che forse voi vedete adesso comunque questo è l'occhio sinistro ho messo 3 giù score è un buon mascara non ottima mio parere però un buon mascara da volume però se se ne mette troppo tende a far ragrumire a fare dei grumi nel senso che è molto compatto e molto pastoso quindi spero che non vada ancora a peggiorare col tempo è molto scuro e molto nero e da una buona incurvatura alle ciglia poi io non ho usato nessuno dei dei casi per la ciglia poi passiamo al roller lash di benefit fortunatamente ce l'ho fatta a dire il nome correttamente dice 97 per cento di ciglia più visibili 87 per cento di long lasting curl quindi di un incorvato un gol vatura e 94 per cento dice che vede i gli occhi più aperti da la sensazione di avere l'occhio più aperto ora questa è la convenzione molto molto carina rosa e nera molto maneggevole anche lo scolino così come quello di sephora questo anche in questo caso abbiamo il lo scolino in plastica che porti una leggera curvatura e vedete meglio bombatura anche in questo caso posso dire che la formula del roller lash se lo dico piano lo dico bene apre davvero lo sguardo infoltisce in curva e nero e mi piace al momento più dell'ostrigger school adesso ti faccio un close up e vi faccio spaventare allora questi sono i due occhi ma qua abbiamo il benefit roller lash e questo è l'ostrigger school ora guardo giù guardo su come matti ciao moto guardo su come matti e questo è il risultato spero vediamo un altro po in tutti e due casi ho messo ho messo solamente uno strato un solo coat di mascara però ci sono lavorato abbastanza quindi tre la sfida tra i due diciamo sta leggermente in avanti ciao moto ciao il roller lash che costa però di più 26 euro e cinquanta e si proprio viva tutto però una cosa che vi devo dire di entrambi che la conformazione dello scolino fa in modo che entra in entrambi in entrambi mascara di poter lavorare dalla radice delle ciglia fino a sopra e basta poi acquistato solo questo e come campiongini la cara sefora mi ha dato la signorina di sefora in quel di frenze mi ha dato due gommage ben due gommage esfolianti della claren e per credo che sia il brodi scrub si perché lo smoothing body scrub for new screen ne ho ben due che userò al più presto e poi le lift questa crema antirughe di chanel che forse devolverò alla mani ma penso di sì non perché io non abbia rughe però è meglio dividere le cose in famiglia e quindi a e poi ancora una volta il porle non so il port professional di di benefit sempre di benefit me lo vendono in tutte le salse non so quante volte l'ha avuto in omaggio sarà il secondo il terzo ma passiamo a chico chico devo dire la verità lo dico sempre ce la farò a fare un video senza le mie frasi speciali diciamo i miei stereotipi da chico il bocchino è stato magro perché ho comprato solamente due prodotti della collezione mo tra mother try sono i tribal soul beckett blush ne ho comprato addirittura due volevo comprare il bronzer ho desistito le matite non mi dicevano niente le altre cose delle collezioni ho schippato ho schippato anche i nuovi smalti anche se ne sto vedendo parlare più che bene ma bamba alle cianci ho comprato il numero 1 e il numero 3 ovvero il wild mob e il deluxe coral vedo in swatch ho usati tantissimo questi sono poco pratici perché la confezione è molto carina ma è molto grande quindi non sono assolutamente da portare con con voi questo è il il move e il wild mob il numero 3 pegano lo specchietto che vi ha cieca è abbastanza pesante la confezione è un colore molto molto bello è un nuovo adatto a tutti i giorni questo sono sono tutti e due colori molto primaverili ve lo svocio qui spero lo possiate vedere perché sono entrambi i colori molto molto delicati hanno la chiusura magnetica più come vi dicevo un po dura però li ho usati davvero molto spesso sono molto luminosi questo invece è il coral non compravo da un po il blush corallo e vi svocio anche questo sempre il colore 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 questo il move e questo ancora adesso ve lo svocio vicino spero possiate vedere qualcosa sì penso di sì un poco con la luce un poco di qua ecco cercate di vedere un po e questi sono entrambi i colori cerco di sport di larmi le manile comunque entrambi costano non poco perché non erano in offerta 14 euro e 90 però tuttora sono rimasta abbastanza con fede felice dell'acquisto stavo dicendo fedele ma felice dell'acquisto un po delusa perché comunque non li posso portare con me ma e finiamo questa all italiana con degli acquisti effettuati in una bio profumeria di firenze perché mi sono messa un po su internet a vedere a firenze se ci fosse una bio profumeria perché volevo vedere i nuovi rossetti di nabla non ne ho acquistato neanche uno perché non c'è nessuno che mi ha spinto più di tanto all'acquisto se non mi sbaglio qual era forse across the universe ero ero ciao ero indecisa sull'acquisto ma non c'era e quindi volevo acquistare qualcosa dell'ultima collezione di neve ed era finito quindi ho acquistato questi propri prodotti la profumi la bio profumeria faccio pubblicità gratuita perché mi hanno trattato benissimo sono state molto gentili questo e lo scontrino fiscale quindi non sono pagata e si chiama elianthus questa e si trova anzi mi hanno dato anche il loro bigliettino perché gliel'ho spiegato che io non vivo in 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 italia questo è il loro bigliettino con l'indirizzo e si trovano esattamente a via centeggito e 32 firenze per chi è di firenze trovate su internet tutto allora la prima cosa che ho comprato è questo bagno schiuma della subio che attualmente sto utilizzando infatti stava sotto alla doccia era il la vasca e si chiama subio etico ok coberti a re questo bagno schiuma è la prima volta che utilizzo un bagno schiuma bio non fa tantissima schiuma ha un buonissimo odore di cocco e appunto e ti arriva si sente più che il cocco fa una buona cioè quando dicevo non fa tanta sono nel senso non non vi immaginate le bolle tutto quanto però idrata abbastanza la pelle abbastanza delicato 300 ml quindi per me che vivo da sola mi durerà abbastanza anche se io faccio la doccia tutti i giorni poi un colpo al cuore e qui il costo è di 5 euro quindi non è come un nemicissimo però mi sono voluta fare passare lo sfizio come uno sfizio molto molto caro e di questo ne hai colpa tu cara simon ma forse tu non vedrai mai il mio video ma qualora lo veda sappi che è colpa tua ovvero mi sono decisa finalmente a comprare essendo finita il mio primer della corres che a strade orato questo della color caramelle e che costa ben 31 euro è costato un po tanto però mi penso che mi duri abbastanza questa è la confezione non ancora mai utilizzato però mi propongo adesso mi ripropongo di utilizzarlo adesso nelle occasioni speciali cercando di abbandonare un po i primers siliconici che ho utilizzato anche se il primer una cosa che non utilizzo sempre però potrei utilizzare in combinazione per esempio ecco infatti lo metterò nei prodotti da usare tutti i giorni in combo con la con la bb cream di di e vediamo che cosa come andrà avanti poi non ho comprato più niente di mica ma solo due z paulette della nabla ovvero questa qui che costa 6 euro e ci vanno sei ombretti di film molto carino in rosa questa 15 euro che mi sa ce ne vadano 12 e quindi questi sono stati i miei acquisti sono molto molto utili perché adesso ne porterò alcuni ombretti eccetera eccetera quindi quanto questi sono gli acquisti stitui perché adesso li andrò in italia e non appena ho sistemato questa roba ne comprerò dell'altra spero che il video vi sia stato utile e non sia durato tantissimo qualora lo vogliate mettete un like non lo so condividete e partono le mani partire per guardare su fare anche questo e anche questo e basta questo è troppo quindi se non avete solo si possono fare altro se non avete abbastanza di questa pazzia seguitemi ancora su facebook twitter e instagram soprattutto instagram spero che il video vi sia piaciuto vi abbia fatto con fare qualche risata e io vi do un bacio forte alla prossima ciao ciao madame mestieri e come mi sono dimenticato una cosa per correttezza intellettuale ovvero le cose i due campioncini che mi sono stati immaginati dalla bioprofumeria eliantus ovvero due shampoo uno della bema lo shampoo purificante per i capelli grassi ed infine lo shampoo delicato azione rinfrescante lucitanti della via officina toscana toscana non appena andrò in viaggio le proverò sicuramente se voi avete provate questi prodotti o gli altri che avete visto nel video precedente fatemelo sapere questo è davvero tutto e grazie ancora per la visione alla prossima ciao ciao un bacio forte ciao ciao